Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale oggi la dedichiamo alle dimissioni rassegnate oggi dall'assessore comunale Eugenio Catania. Alla base ci sono sovraggiunti impegni professionali che non gli consentono di poter proseguire. Il sindaco di Gela, Domenico Messinese, preso atto della decisione, ha ringraziato Catania per il lavoro svolto in questi mesi e gli ha augurato nuove soddisfazioni, confidando nella sua futura collaborazione sempre in nome della collettività. Ma sentiamo proprio l'ex assessore Eugenio Catania ai nostri microfoni. Quali motivo sei dimesso in tutta sincerità? Per sovraggiunti impegni di carattere personale, già ieri sera ho rappresentato al sindaco la necessità di rassegnare le mie dimissioni per curare il mio lavoro e i miei affari personali. Ma questo impegno non ce l'avevo anche prima quando firmò proprio la carica che le diede al sindaco? Sì, senza dubbio ho cercato di organizzare la mia attività in maniera da poter dare il meno fastidio possibile ai miei clienti, ma gli impegni sono talmente tanti che non si riesce a dare istanza alle varie richieste che arrivano invece dalla mia attività professionale. A tutte le critiche che le sono piovute addosso, ci rivediamo agli screzzi con l'architetto Tuccio e gli ombrellini in corso di Vittorio Emanuele, le hanno fatto male e l'hanno poi indotta anche a dimettersi in tutta? No, no, assolutamente no. I problemi e le diatribe di carattere politico, critiche strumentali spesso, mi hanno dato anzi invece una maggiore forza per poter rimanere in carica e concludere con un grande successo l'estate gelese, con oltre 90 eventi in 60 giorni o tutte le operazioni effettuate con la polizia municipale, sia sulla viabilità che per quanto riguarda l'ufficio formazione che rimane un'istituzione creata da mio impulso e che ha dato molta soddisfazione a me personalmente tutta l'aggiunta e sarà utile alla città. Ci sono state anche alcuni consiglieri comunali che hanno chiesto le sue dimissioni qualche settimana dietro? Ho già all'inizio, proprio all'inizio del mio incarico, abbiamo avuto una seduta di consiglio comunale monotematica su di me, ma come si dice in questi casi tanto nemici e tanto onore. Lei fino a qualche minuto dietro è stato assessore anche allo sport, le chiedo a che punto sono i lavori al Vincenzo Presti? I lavori al campo Vincenzo Presti sono conclusi, ho lasciato il manderboso del Vincenzo Presti completamente ristrutturato, anche grazie all'aiuto del collega e amico Flavio Di Francesco, con cui c'è stato un grande lavoro di riportare in auge questo campo e lo stadio Vincenzo Presti. Anche i gazebo, i box della stampa sono stati riparati e adesso tutto sta nella gestione, nella gestione del campo. Che voto si dà in questa esperienza? Se fossi un componente esterno io mi darei nove, perché in tutti gli ambiti della mia delega sono riuscito ad ottenere dei grandi risultati. Anche la protezione civile ha avuto il com da parte del prefetto, è stato uno dei comuni della provincia di Caltanissetta, in cui è stato riconosciuto il centro operativo misto, oppure tutte le attività di prevenzione che abbiamo fatto ma che non si sono viste fino a questo momento. La Polizia Municipale rimane il mio cuore, dove ho trovato dei validi dipendenti comunali, sempre leali e liggi al dovere, ma sono stati fantastici anche quelli del settore sport e turismo e spettacolo, su cui abbiamo cercato proprio quest'anno di inserire il nostro comune nelle mete turistiche dei comuni limitrofi. Non è sempre esagerato nove come voto? No, non è esagerato. Cambiamo argomento e parliamo di un parco eolico fantasma Butera, 3 milioni di euro per un'opera mai finita. La Guardia di Finanza di Caltanissetta ha segnalato alla Corte dei Conti il sindaco funzionari ed anche il Dipartimento Industria della Regione. L'accusa mossa dalla Guardia di Finanza del Nucleo di Polizia Tributaria del Comando Provinciale di Caltanissetta è quella di avere determinato un danno erariale di oltre 3 milioni di euro. Un'indagine meticolosa delle fiamme gialle che si è conclusa con la segnalazione alla Corte dei Conti di 13 persone. Tra loro c'è anche il sindaco di Butera. L'attività investigativa riguarda inoltre funzionari del Dipartimento Industria della Regione Sicilia, il responsabile del settore urbanistica del Comune di Butera, il responsabile unico del procedimento, progettisti, direttore dei lavori e rappresentanti legali delle ditte appaltatrici. Tutto ruota attorno ad una gara d'appalto indetta dal Comune buterese per la realizzazione di un parco eolico finanziata con fondi erogati dalla Regione Sicilia. La Guardia di Finanza ha accertato che dopo oltre 12 anni dall'inizio dei lavori, a seguito di diverse varianti e suppletive, la ditta appaltatrice non ha portato a termine i lavori e che il Comune di Butera, in qualità di stazione appaltante, non ha vigilato al fine di evitare lo sperpero di denaro pubblico. Inoltre, la Regione Sicilia, Dipartimento Industria, non ha risultato aver svolto i propri compiti di vigilanza e di controllo e non ha avviato una procedura di recupero delle somme finanziate come previsto dalle norme vigenti. L'attività di indagine della Guardia di Finanza rappresenta, nell'ambito del contrasto agli abusi e agli sprechi, un importante tassello al fine di ripristinare le condizioni per il corretto impiego delle risorse pubbliche. Circa 1100 controlli, elevate 155 sanzioni, notificate, tre notizie di reato, rilasciati 22 bollini blu ed eseguiti tre soccorsi e il bilancio degli uomini della Guardia Costiera di Gela nell'ambito delle operazioni Mare Sicuro che si sono svolte dal 20 giugno allo scorso 18 settembre. I militari della Capitale di Porto sono stati impiegati nel pattugliamento del litorale costiero la cui giurisdizione comprende i comuni di Gela e Butera al fine di prevenire e reprimere i condotti allecide ai danni del pubblico demanio marittimo contrastando l'abusivismo facendo rispettare le normative sul di Porto, sulla pesca e la balneazione con lo scopo di garantire agli utenti la pacifica e sicura fruizione dell'ambiente marino. In particolare durante il periodo estivo l'attività è stata caratterizzata dalla vigilanza ad hoc circa l'osservanza dell'ordinanza di sicurezza balneare con la costante sorveglianza delle condizioni di sicurezza ed incrementando i controlli sulle dotazioni di sicurezza obbligatorie per le strutture ricettive e sull'organizzazione del servizio di esistenza e salvataggio al fine di un corretto svolgimento delle attività balneari ovvero prevenendo comportamenti pericolosi, illeciti ed irresponsabili lungo tutta la fascia costiera di interesse è stata inoltre dedicata apposita disciplina alla pratica del kite surf e alla vigilanza ambientale in aree sensibili del compartimento come le foci dei fiumi, le ZPS in località Burala e comunque tutte le aree costiere particolarmente critiche poiché oggetto di scarichi di reflui urbani e di rifiuti solidi Gela è stata scelta come sede del convegno scientifico sulle patologie rare del sangue ne dà notizia l'AIPAM presieduta in città da Giacomo Giurato l'obiettivo di questa realtà è quello di aumentare le opportunità di ricerca scientifica sulla causa e la cura della mielofibrosi di divulgare la conoscenza della malattia fra i pazienti e i medici e di promuovere un'assistenza adeguata ai malati e alle loro famiglie l'iniziativa ha il patrocinio dell'assemblea regionale siciliana della regione Sicilia e del comune di Gela e costituisce una vetrina internazionale per la città del Golfo l'appuntamento è per il 15 ottobre alle 18 nella sala congressi della Sicania Resort e la giorno dopo, domenica 16, è prevista una tappa dunque a Gela con una visita guidata presso i siti archeologici delle mura Timorontè del museo regionale e dei bagni greci in più di un'occasione hanno chiesto all'assessore servizi sociali e alla giunta quali e quante somme sono destinate in bilancio a favore dei diversamente abili e delle loro famiglie essendo prossimi alla discussione del documento finanziario e non avendo notizie della programmazione chiediamo lumi e certezze e quanto esigono il presidente del consulente legale dell'associazione H, Maria Concetta Maganucco e Paolo Capigi la giunta comunale dicono deve prestare attenzione per questo si chiede di sapere qual è il corrispettivo impegno spesa ancor prima che il bilancio di previsione approdi in consiglio per la discussione e l'approvazione l'associazione H vuole sapere gli importi dei fondi destinati al servizio di trasporto speciale, scolastico e riabilitativo quello destinato al servizio per l'assistenza igienico-sanitaria accudienti nelle scuole dell'obbligo per gli alunni non autosufficienti l'importo delle somme destinate al personale specializzato e agli assistenti della comunicazione i fondi destinati alla incentivazione e la pratica dello sport dei diversamente abili ed ancora i fondi indirizzati al servizio di aiuto domestico agli infra 65 anni non autosufficienti e i fondi destinati agli anziani ultra 65 anni non autosufficienti la giunta comunale rilancia l'associazione H deve dirci qual è l'importo delle somme destinate alle case famiglie comunità alloggio, case protette e centri di urni anche con riferimento agli importi che l'ente eroga a favore dei soggetti collocati fuori provincia e fuori regione nella nota Magalunco e Capici inoltre chiedono di sapere se e quali provvedimenti l'amministrazione intende adottare nei confronti di privati e organizzazioni sociali che pur occupando strutture comunali non offrono reali e concreti servizi alla collettività l'associazione H sottolinea che ultimamente sono giunte alla mentele di parecchi genitori che ad oggi non hanno ricevuto per i loro figli il servizio di trasporto scolastico quello di accudienza e quello dei servizi specialistici previsti dalla legge 104 non escluso che l'associazione H si rivolga alla procura e alla corte dei conti un campo a scuola dedicato a tutte le persone che soffrono di diabete ai loro familiari e ai loro amici è organizzato dall'Ade l'associazione Diabetici Eschilo preseduta da Giuseppe Curatolo si terrà da venerdì 14 a domenica 16 ottobre prossimi presso il villaggio turistico Sicania Resort Tenutella in territorio di Marina di Butera gli incontri inizieranno venerdì alle 16.30 e termineranno domenica alle 17.30 diversi gli esperti in funzione di docenti per le singole competenze che prenderanno parte alla tre giorni di incontri prevista anche la partecipazione della Presidente della Casa del Volontariato di Gela chi è interessato a partecipare può contattare il seguente recapito telefonico 393-3748-604 lo ripetiamo 393-3748-604 Gela segreta dentro l'acropoli è l'iniziativa promossa dal Polo Archeologico Regionale di Gela e di Caltanissetta e dall'Archeoclub d'Italia a sezioni di Gela si darà venerdì 7 ottobre alle 20.30 in quell'occasione l'acropoli di Molino a Vento aprirà i cancelli per una visita eccezionale all'interno del quartiere abitativo di solito visibile solo dall'alto guidati dagli archeologi i partecipanti potranno camminare tra le testimonianze degli ambienti antichi calpestare la storia a scoprire come si svolgeva la vita quotidiana grazie ad alcune ricostruzioni di vase e lame pensate per Gela segreta la passeggiata guidata è totalmente gratuita chi vuole partecipare dovrà indossare scarpe comode e portare con sé delle torce elettriche per informazioni contattare il numero telefonico 349-2698-140 lo ripetiamo 349-2698-140 e ora parliamo della festa di San Francesco e dei nonni alla scuola Paolo Emiliani Giudici di Gela erano in tanti questa mattina a festeggiare San Francesco nella scuola Paolo Emiliani Giudici di Gela e per festeggiare anche i nonni, alunni e docenti tutti assieme ed è stata l'occasione per gustare le prelibatezze preparate dalle mamme degli studenti i ragazzi, i bambini e i grandi hanno fatto tutto un lavoro sulla opera di San Francesco la nostra scuola si chiama San Francesco e quindi è giusto che loro sappiano la grandezza, la potenza di questo santo ma siccome non deve rimanere tutto sulla carta abbiamo voluto dimostrare che portando gli animaletti loro prendano il modello, l'esempio per la vita ma c'è stata una grossa organizzazione dietro? c'è un'organizzazione, infatti ci sono tutti e due i plessi qui siamo sulla serie 900 ragazzi più mamme, più nonne, più cagnolini, gattini, di tutto e in questo momento solo questo grande cortile della giudici ci poteva aiutare per l'occasione Don Giorgio Cilindrello parroco della chiesa San Francesco ha benedetto gli animali domestici di piccola taglia degli alunni della scuola San Francesco sappiamo che è il santo dell'universalità infatti un po' è onorato, festeggiato, stimato anche dal mondo non credente anche coloro che si definiscono atei hanno sempre in San Francesco un punto di riferimento diciamo che è un santo universale in lui c'è tutto la fede immensa nel Cristo Gesù crocifisso, nella santa eucaristia l'amore alla chiesa, l'amore all'universo intero tutto il creato sappiamo che Francesco è poliedrico nella sua spiritualità Francesco è anche totalmente uomo libero come l'accezione del suo, del nome proprio Francesco uomo libero sì, viaggio pure acconsente e continuano a Gela i festeggiamenti in onore di San Francesco oggi alle 17 sul sagrato della chiesa omonima benedizione degli animali alle 18 scampanio festoso e preghiera del rosario alle 19 solenne celebrazione eucaristica con la presenza delle autorità civili e militari animata dal movimento giovanile San Francesco il sindaco per l'occasione accenderà la lampada sull'altare di San Francesco e alle 20 fiaccolata con la reliquia del santo in piazza San Francesco fai la cosa giusta mantieni il decoro urbano della nostra città oggi, martedì, dalle 22 alle 5 depositare davanti alla propria abitazione la carta e i cartoni ben piegati e impilati conferire giornali, quotidiane riviste libri e quaderni privati da altri materiali fotocopie e fogli usati imballaggi in cartone cartoni per pizza solo se puliti contenitori in tetrapack vuoti privati dei tappi, lavati e scolati scatole per alimenti e nonna buste, sacchetti zucchero e farina scioper in carta tovaglie in carta non unte depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile cosa conferire? avanzi di cibo, piccoli ossi scarti di cucina, di frutta e di verdura formaggi e salumi avanzi di pane alimenti avariati e scaduti fonde di caffè, filtri di tè e camomilla sfalci, piccole potature fiori recisi e piante domestiche senza terra e senza vaso pezzetti di legno, paglia, segatura ceneri spente di camini tovaglioli di carta unti carta assorbente usata escrementi, piume, peli e lettiere di piccoli animali domestici per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto rieccoci seconda parte del telegiornale sono in pagamento al comune di Gela i contributi relativi all'acquisto dei libri di testo riservati agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2013-2014 i beneficiari degli eventi diritto per riscuotere la somma dovranno recarsi agli sportelli della banca Unicredit muniti di documento di riconoscimento valido e codice fiscale mercoledì 12 ottobre è l'ultimo giorno utile per poter presentare all'ufficio di protocollo generale del comune di Gela l'istanza per ottenere l'abbonamento o il contributo per il trasporto scolastico nel primo caso la domanda per accedere al servizio gratuito va presentata dalle famiglie degli alunni delle scuole primarie e secondarie residenti a Femina Morta Roccazzelle e Borgo Manfia termini aperti anche per i nuclei familiari degli studenti che si recano in un comune diverso da Gela per frequentare le scuole secondarie di secondo grado fino a lunedì 10 ottobre prossimo nella sala della clinica Santa Barbara di Macchitella a Gela è possibile visitare la mostra di arte con pitture e fotografie inedite del collezionista Franco Pardo l'iniziativa è del centro di cultura e spiritualità cristiana Salvatore Zuppardo l'idea di promuovere questa mostra è perché io sono qua in questa clinica da circa 4 mesi e che sono arrivato che dovevano mettermi in una tomba e grazie al dottor Barberi e a tutti i suoi componenti e sono adesso all'impiede per andarmene via e l'idea mi è nata per ringraziare la struttura della clinica Santa Barbara di tutto quello che hanno fatto per me e ho voluto omaggiarli di questa mostra siamo lietissimi che le cose vanno avanti in questa maniera e io sono onoratissimo che ho partecipato con delle mie piccole opere di acquarello per abbellire un po' quel poco che potrebbe essere quindi viva la felicità delle cose le immagini raccontano i festeggiamenti della Pasqua in città e si completano con personaggi e frammenti della Gela Antica dove sono catturati vicoli ed edifici oramai cancellati dal progresso ho conosciuto il signor Pardo e ogni giorno è una nuova conoscenza perché mi stupisce ogni giorno che parlo con lui perché è un profondo conoscitore della storia di Gela è un profondo conoscitore di tanti usi e abitudini della Gela passata e che mi tramanda ogni giorno in un colloquio io lo vengo a visitare ma lui mi racconta tutta la storia mi rende più adotto delle storie della nostra Gela e naturalmente la mostra è fruibile per tutta la gente l'associazione italiana arbitri indice il corso nazionale per arbitri di calcio per la stagione sportiva 2016-2017 le iscrizioni dovranno essere accolte tramite le 211 sezioni dislocate sul territorio nazionale entro il 31 ottobre prossimo per la provincia di Caltanissetta saranno organizzati due corsi di cui uno a Gela promosso dalla referente AIA Riccardo Zagarini possono partecipare gratuitamente tutti i candidati di ambosessi che siano cittadini della comunità europea che abbiano compiuto alla data dell'esame il 15esimo anno di età al termine del corso il candidato dovrà sostenere una prova di ammissione all'esame prova che prevede dei test scritti e orari sul regolamento del gioco del calcio e un test di idoneità atletica per informazioni ci sono due recapiti telefonici 0933 91 11 09 338 45 96071 Gli appassionati della due ruote più amata d'Italia si sono dati appuntamento domenica mattina nel piazzale di via Piersanti Mattarella nella zona Pontebloi per la quinta tappa finale del secondo campionato regionale della Gincana Vespistica 22 in tutte Vespisti dei club di Caltanissetta Grigento Castelvetrano Comiso Canicattì Porto Empedocle Racalmuto Raffadali Enna Leonforte Agira Raguseggia è lasciasi in pista per contentersi il titolo nella categoria small large e a squadre un campionato che per la seconda volta si è svolto in città grazie all'incarico assegnato dal Vespa club d'Italia al club di Caltanissetta assieme a quelli di Agrigento Castelvetrano Selinunte Adesso per quest'anno dopo tutti gli impegni che abbiamo fatto e tutte le partecipazioni ai vari raduni regionali e anche oltre regionali perché abbiamo partecipato al raduno internazionale di San Trope quest'anno finiremo la stagione con la cena sociale di tutti gli associati campione assoluto Alessio Napoli del Vespa Club di Castelvetrano primo classificato della categoria large che ha dato prova della sua maestria sulle due ruote tra birilli e pedane realizzando il miglior tempo con un minuto 17 secondi e 59 primi quest'anno c'era un po' di tensione perché magari ci spaventavamo se c'era qualcun altro che subentrava nel giro ma alla fine ci siamo riusciti a differenza allo scorso anno però quest'anno ho fatto quattro primi posti su quattro gare effettuate però devo dire che è stato più divertente all'anno scorso perché c'era più confidenza fra di noi c'è un rapporto migliorato fra i club organizzatori e anche fra i club nuovi entrati secondo posto nella categoria large per Calogero Burgio e terzo per Salvatore Pedalino entrambi i soci del Vespa Club di Agrigento sul podio per la categoria small Angelo Aiata del Vespa Club di Caltanissetta che per un pelo con il suo tempo di un minuto 18 secondi e 67 primi ha sfiorato l'assoluto seguito da Giorgio Amabile del Vespa Club di Castelvetrano Selinunte e Kevin Pernaci del Vespa Club di Caltanissetta si prova un'emozione bella naturalmente ci sono molti sacrifici dietro di viaggiare spostarsi con la famiglia naturalmente è tutto perché comprende anche questi sacrifici qua direi che devo ringraziare anche tutti i Vespa Club che hanno organizzato queste tappe che sono 5 e niente dopo di ciò al prossimo anno il Vespa Club Castelvetrano Selinunte si è classificato primo per la categoria squadre secondo il Vespa Club di Caltanissetta e terzo quello di Agrigento è scattata la campagna abbonamenti per la stagione teatrale 2016-2017 all'antidoto di Macchitella a Gela il cartellone che comincerà il prossimo 23 novembre prevede tra gli altri l'esibizione di Pippo Franco per informazioni rivolgersi al 338-7143-293 330-225442 o 0933-8222707 l'abbonamento lo ricordiamo intero costa 70 euro 55 euro ridotto per i giovani abbiamo concluso anche per oggi grazie per averci seguito appuntamento alle prossime edizioni grazie per averci seguito a tutti grazie per averci seguito grazie per averci seguito grazie per averci seguito